Buongiorno amore mio! Buongiorno! Allora ieri dove sono andata Anastasia? Alla riunione della tua scuola che inizierà fra pochissimi giorni mentre nella tua non sono potuta andare perché era allo stesso orario di quello di Anastasia e visto che lei inizia la prima elementare ovviamente ho dovuto partecipare a quella dove stiamo andando adesso a comprare il materiale il materiale per la scuola sia per Ani che per Vane va bene e magari il posto è lo stesso ordiniamo e facciamo i sacchetti va bene poi Anastasia dobbiamo andare a comprare anche uno zaino nuovo vediamo se facciamo in tempo tu ce l'hai vediamo andiamo ciao ragazzi siamo appena usciti dalla cartelleria e abbiamo comprato il materiale per la scuola poi vi facciamo vedere tutto e abbiamo comprato ovviamente tantissime cose e adesso sto andando a prendere lo zaino per me e Anastasia ci vediamo dopo ciao siamo tornati a casa ma c'è qualcosa che non va ma ciao Anastasia siamo tornati a casa cosa c'è? sono una maestra cattiva eh che sei la maestra? sono una maestra cattiva oh 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 ma tu sei pazza oi siamo andati a comprare tutti gli accessori che servono per scuola e ti sei trasformata in una maestra cattiva? ma Anastasia ma Anastasia ciao Vanessa siamo tornati a casa dallo shopping scolastico ma c'è qualcosa che non mi torna allora dallo a me questo bastone perchè eh dammelo se volete che io ritorno domani e non è te non è te la maestra non è te la maestra non è te la maestra ragazzi stai io sono contentissima perchè domani sei tornata all'ormale ma Anastasia è il gattino sii domani è una giornata bellissima perchè andiamo a conoscere Gaia finalmente chi è Gaia? la nostra gattina non è vero non è la nostra gattina è la gattina che forse compreremo ma prima dobbiamo fare le prove allergiche con Dani quindi domani sarà il primo giorno in cui conosceremo Gaia quando noi chiameremo se tutto andrà bene Candy esatto ragazzi abbiamo deciso di chiamare la gattina se riusciamo a portarla a casa Candy vi piace come nome? scrivetecelo nei commenti ragazzi oggi abbiamo comprato diverse cose sia per te Vanessa che per Anastasia oltretutto di Anastasia erano arrivati anche i libri quindi tu non li hai ancora visti non sei curiosa di vedere i libri? però aspetta Vanessa vuol farci vedere prima le sue cose allora Vanessa cosa hai acquistato? allora iniziamo dalle cose molto semplici che è questo il mio astuccio molto bello si di cui non ne avevi bisogno però lo abbiamo visto effettivamente è molto bello e te l'ho comprato allora si inizia da qui dove abbiamo queste penne che poi sostituiamo perchè non sono cancellabili no no va bene puoi giocare tipo così ho capito ma non ci stanno le penne quelle tue dove le mettiamo? o sposti queste le metti nella tua... no le metto qua vicino guarda che lo rompi subito eh comunque qui abbiamo le penne abbiamo queste due matitte si molto bello gialla e rosa si poi abbiamo questo bel temperino dove per svuotare... oh guardate che bello a forma di libro è una gomma è una gomma ma dai gomme e temperino insieme o solo una gomma? no è una gomma e un temperino molto carino però non è un temperino adatto secondo me perchè non ha il serbatoio per racchiudere... qua e qua si ma no vabbè fai niente se vai sopra il cestino puoi farlo si tu puoi farlo? si dimmi amore poi abbiamo... un attimo Ani un secondo finisce di farci vedere l'astuccio questo è bello anche il righello si quanti centi di litri è questo righello? 15 15 è quello classico da 15 mentre per te me l'hanno chiesto da 20 e te l'ho dovuto comprare separatamente perchè anche tu nel tuo astuccio ce l'avevi da 15 ma abbiamo uno scotch? ah wow questo faccio sembra... noi abbiamo uno scotch a casa e sembra... lo stesso vero? si secondo me ce l'hanno rubato da casa no ce l'ho nel mio... dove? nel mio libro nel tuo libro? allora poi magari prima di andare a scuola lo tiriamo fuori così lo portiamo... lo mettiamo in cartella va bene? no? no io dico... sai il diaio? si ah ok ok guardiamo questa bella gomma dove c'è scritto l'olio sopra si è molto calina e morbida? mhm bellissima molto bene guarda mamma prova si faglielo provare ad Anastasia wow bello ecco secondo me intendevano una gomma così della tua scuola perchè dicevano una gomma morbida comunque poi abbiamo aspetta un secondo amore l'ultimissimissimo poi abbiamo i penarei che mi piacciono molto molto bello come si apre eh questo diario si va questo astuccio ah ho sbagliato poi abbiamo questi colorini mi piace un sacco questo qua perchè è lili va bene poi abbiamo queste matite che sono bellissime anche queste vero mamma? si guarda stupende delle matite così non le ho mai viste in vita mia sono tutti uguali le matite è veramente è l'astuccio che bello è strutturato bene mi piace che si chiude qua così molto carino brava adesso facciamo vedere lo zaino nuovo di Anastasia ohhhh madonna santissima leggerotto secondo me lo zaino delle barbie con le ali sollevalo un attimo aspetta perchè non si vede allora Anastasia tu faccio vedere il tuo io faccio vedere il mio brava leggerlo un po' se vai sempre in mezzo io ho questa tasca qui si qui c'è un'altra si hai visto hai una tasca gigante ci vuoi mettere la merenda il pranzo ecco qui c'è un'altra wow ma non c'è un'altra qui c'è un'altra si che c'è guarda guardate qui Anni qua c'è un'altra davanti tu non te ne sei accorta per mettere la merenda dietro le ali c'è una cerniera prova nell'altra ala è vero è vero qua mettiamo la merenda guardate ragazzi qui c'è poi questa qua dietro puoi mettere gli astucci e qua davanti certo magari quanti tusche ho preso un'altra quello serve sai per cosa per allargarlo esatto quindi prenderlo un po' e poi qui si può allargare vedete si anche poi lo proviamo eh poi lo proviamo amore anzi sai cosa ti dico Anastasia si no ma proviamo a metterci dentro i libri? così gli diamo un'occhiata a questi libri eh 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 ma li voglio prendere adesso anche la scuola si no c'è guardate il mio astuccio vi faccio vedere va bene ma che bellino è di cuccioli ma non è il mio ma non è il mio ma non è il mio oh che super forbice poi cambiamo questo temperino e mettiamo quello nuovo che abbiamo comprato anche questo righello lo teniamo però nello zaino mettiamo invece quello ma non c'è questa carta qui? ma c'è? cos'è? hai tolto la carta? allora un secondo no si perchè sta facendo vedere il suo astuccio ok eccolo questo guardate la scritta bella cosa c'è scritto? cuccioli cuccioli amici cuccioli amici uh bello bellissimo poi cosa troviamo qua? i pennarelli e i pastelli eh si eh vedete che ce ne sono tutti anche qua ci sono due di te colorata eh si eh sono un astuccio che non mi ricordo dove erano mai se no vabbè fa niente metterò un'altra parte metterò i colori più belli con i belli perchè vedete che questi qui non è che sono tanto belli si toglie solo questi e me si mettono gli altri ma si amore poi quando andrai a scuola ci penserai magari poi quando andrai a scuola saranno tutti più belli guardate le zampette che belle ci sono le zampette amore allora adesso faccio vedere quello di Vanessa adesso facciamo vedere cosa fa va bene questo sacchettino qua dentro c'è allora questi che sono le squadre questa è la scuotretta ha le cuffie con dentro la zampella nooo la zampella con le cuffie ahahah cosi di tanto te li viene fame e li dà un morsichino cos'è? si è sciolta? si è sciolta si è sciolta quindi non è che l'ho mosso perchè sennò che mi fa sentire mamma mia quanto è carino ne dobbiamo dare un nome a questo cagnolino allora abbiamo questa questo è il goniometro lo chiamiamo Pippo lo chiamiamo Pippo? va bene ciao Pippo e la gomma per Anastasia la gomma di Anastasia perchè posso aprirla no 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 lascerò un attimo ah si si dopo l'apri amore allora fino abbiamo le squadre questo che non mi ricordo come si chiama e poi questo è il goniometro queste sono le squadrette mi piace un sacco questa penna perchè ha i disegni qua sopra non come questa che ha le strisce normali quella è nera? è questa eh si proprio con la mia speriamo che durino un po' queste penne ma eh dobbiamo portarle tutte tu Vanessa vedi un astucino dove mettevi altre cose dobbiamo fare un po' di ordine si certo guarda lo vedo io da qua e là tu quello lì là in alto lo potresti utilizzare per mettere dentro quel qualcosa in più ho cambiato la gomma l'hai già cambiata amore mamma mia come sei spiccata sei già come si usa l'astuccio Ani ascoltami ascoltami un attimo questa gomma qua io l'ho presa come ricambio devi tenere questa per adesso vabbè ma poi ci pensiamo adesso facciamo finire la resta ok? allora gli ho fatto vedere questo dei tue penne si e adesso abbiamo questo quaderno finico però wow quanto è un mio no amore i tuoi quaderni sono tinta unita poi la mamma te li va a comprare ancora si dopo guardate che belle è stato qua bellissimo si si sai cosa sai cosa è che tanto ci metti sopra le copertine e tutto ciò non si vedrà mai più guarda un gustino il koala molto bello si sono belli da toccare sono in rilievo ciao abbiamo il cartino oh no sai chi sembra Giuseppe nero vediamo guarda Giuseppe ce l'abbiamo sul quaderno e poi è quello della vacanza a me piace un sacco oh guardate è bellino questo è ti sembra è ti è un cagnolino e vediamo questo spettacolare cos'è? wow il lupo e poi abbiamo allora queste che sono le queste sono le copertive si e abbiamo così quelle sono le etichette ne abbiamo presa qualcuna grande poi quelle piccine ma di queste piccine ne ho già su qualcuna eh ok dobbiamo etichettare tutto eh ragazze sto provando a prendere le problematiche tipo due cose allora quando noi iniziamo la scuola mamma resta un minutino con noi mezz'ora posso restare con te e poi ragazzi quando io arrivo alla mia scuola la mia classe sono proprio di davanti vicino a Vanessa attaccate così sei contenta amore così hai un punto di riferimento che arte amore ah no il block notes è per le brutte di testi no 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 quando siamo a mangiare la incontro probabilmente tu mangerai prima di Vanessa eh allora vi spiego una cosa tutte e due forse il primo mese o entro la fine di settembre mangerete ancora in classe ma semplicemente perché stanno facendo dei lavori in mensa ok mentre dopo di che mangerete in mensa allora sono bellissimi i tuoi sai che io li ma come hai preso un altro di questo per Anastasia probabilmente però ragazzi ascoltatemi un secondo c'è un po' di confusione Anastasia lo so che sei tutta eccitata per te la prima volta però se tiriamo fuori i quaderni insieme non si capisce più niente a me non li mettono si allora Vanessa ritira i tuoi sono bellissimi Anastasia piano amore piano che lo rompi guardate questo è un altro quadernone che servirà qualcosa e perché serve? si vedrà questa è una copertina hai tirato fuori anche una copertina ti mancano le altre queste sono le copertine sai a cosa servono? no servono per coprire i quaderni ok cosa manca? niente? si ancora cosa manca? mancano i tuoi libri eh Ani però sono tantissimi e sono pesanti io li prendo io guardate ragazzi questo di chi è? è uguale il cavallo di Vanessa è me di Vanessa è tuo? ah si ok allora mettilo qua eh tanti quanti ne hai avuti tu che bello guarda che bello è ti faccio vedere io allora? ti piace? ti piace? si questo fino alla terza ok questo qua è il libro di educazione civica e abbiamo già tutte e tre le serie quindi 1 2 e 3 anche questo è educazione civica e questo invece va bene per tutte e tre le classi prima, seconda e terza vedi questo è il metodo questo è matematica mamma mia matematica vediamo che voglio vedere piano eh non rovinarli matematica Anastasia che emozione 4,1,5 con le manine ma si Anni ma sei emozionata? si vero? anche i libri anche i libri che hai amore ancora e te l'hai già fatto vedere? si l'hai già fatto vedere ancora questo cos'è inglese? è molto pino no e si è storia si questo è di inglese Billy Bot che bello è Anni Piano Anni piano Daniel guarda cosa c'è scritto qua Daniel è come il tuo fratellone Daniel Alice questo è ancora di inglese un altro di inglese un altro tesoro non ci credo un altro tesoro e questo è letture mentre questo è storia, geografia, scienze e tecnologia mamma mia Anastasia guardami un secondo mi sembra vieni qua una mi sembra troppo no mi sembra così strano che va gli elementari e te? non abbiamo finito qui ce ne sono ancora ancora libri? guarda no ma questi non sono libri questa è cancelleria e quaderni no libri sono finiti grazie a Dio e dove sono? proviamo a metterli dentro lo zaino si ma dove è dentro? mamma chissà quante coppie te li daranno anche in prima ma no non penso proprio vediamo in prima devono iniziare a leggere e a scrivere aiutateli Ani piano sei troppo eccitata non quelli amore volevo provare a mettere i libri allora stai provando a metterli io volevo giusto capire la dimensione di questo zaino secondo me non è è qua so dietro questo l'ultimo brava quella lì Ani ok qui secondo me ci possono stare abbassa Vane? si ok l'importante è che ci rendiamo conto che non ho preso proprio uno zaino mignon perché avevo un po' paura allora ragazzi non so se vi è tutto chiaro quello che vi stiamo mostrando perché Anastasia è molto eccitata e quindi sta facendo un po' di confusione ciao amore è contentissima fortunatamente di iniziare l'elementare speriamo in bene e voi quando avete iniziato la prima elementare eravate contenti oppure no? scrivetecelo nei commenti cos'altro hai trovato? il mio temperino che bellino è proprio bellino il tuo temperino poi cos'altro c'è? ci dovrebbe il tuo niposca hai voluto un evidenziatore non un niposca un evidenziatore e io te l'ho comprato così ce l'hai nell'astuccio il righello da 20 cm perché lo hanno chiesto e io l'ho voluto prendere nonostante quello che tu avessi comunque nello zaino ma era da 15 cm nell'astuccio allora queste penne sono due queste penne sono due eh sì allora la maestra ha detto che all'inizio userete la matita quindi non le penne noi le abbiamo acquistate lo stesso ma non verranno sicuramente utilizzate subito allora poi una di queste era di Vanessa adesso Vanessa poi deciderà se regalartela perché lei nel nuovo astuccio ne ha già due comunque la teniamo di scorta e chi ne dovesse aver bisogno la usa va bene? ragazzi io voglio dire cosa ho già tre gomme quella è di Vanessa come vale? come Ani? perché non è mia perché non è mia io non ne avevo presa una anche a te guarda che te l'avevo presa le prendiamo di scorta chi poi ne ha bisogno le usa d'accordo? mi piace tantissimo questo tempero si amore ti piace tanto sai cosa dobbiamo fare dopo? prendiamo una matita già usata e lo proviamo con il temperino prima di leggere no fare tutto facciamo magari prima lo già abbiamo già fatto tutto e la mamma mi fa leggere si amore ma stai tranquilla che adesso è tardi domani ti faccio leggere no ma dove andiamo domani? dove andiamo domani? a prendere a conoscere il gatto sai benissimo che domani non lo prendiamo ma io sono emozionatissima lo stesso di vederlo e di coccolarmelo tutto ma le forti giorni mancano venite alla scuola pochissimi cinque giorni sei contenta? ragazze abbiamo finito? no come no? siete sicure? no e cos'altro manca? la cartelletta di Ani ah manca ancora un sacchetto? si dai ultimo sacchetto poi sai cosa facciamo Ani? se magari Vanessa voglia e non è stanca ci aiuta ad etichettare va bene magari etichettiamo i libri va bene? si dai almeno solo i libri questa è la cartelletta con dentro dei fogli trasparenti ma si gialla perché Anastasia ha la scelta gialla lo dobbiamo scrivere anche qua Anastasia eh si ok non tirarmi fuori amore sono solo dei fogli questo è uno scontrino è meglio che non gli diamo nessuna occhiata perché mi sono svenata oggi pomeriggio per tutto questo che abbiamo comprato soprattutto per lo zaino Barbie questo per chi è? questo è di Anastasia per te non ce n'hai bisogno perché vi sono avanzati a scuola capito? non mettere il sacchetto in testa è da quando sei nata che te lo dico ah tu sei tornata maestra cattiva allora maestra cattiva sappi che arriverà una bambina tra pochi giorni più cattiva di te e si chiamerà Anastasia allora se vuoi ti dico come si chiamano le tue maestre ma purtroppo non mi ricordo il nome di una delle tre dai come si chiama? si chiamerà allora io ho una Stefania no perché Stefania no una si chiama come la nonna ah Elisa Elisa l'altra si chiama come la figlia di Laura Cristina ma sono loro e purtroppo non mi ricordo il nome dell'altra mi dispiace ma ha parlato pochissimo forse niente ma Stefania non c'è Stefania non c'è Stefania poi c'è Davide che avete lo stesso maestro di religione di religione va bene bimbe ma io non ci voglio non ci guardare tutta cosa eh non ci guardare l'olio cosa devo fare? posso concludere il video salutare? si mi devo girare? spiamola dallo specchio vediamo se riesco a spiarla vedo solo Vanessa dov'è quella malefica nane rottola? posso girarmi? si e vieni c'è la tavola ho paura non mi devi guardare ecco scendo attenzione cosa? ma questo così che mi fai pazza ah Anastasia se tu mi dai una mazzata sulle gambe ti arriva un calcio che tu a scuola ci vai senza denti ma non perché ti sono caduti naturalmente io mi avvicino Anastasia va bene Vanessa questo super video super pazzo perché abbiamo in famiglia una spiglia di brotta mentale mi stai facendo male oltretutto ho preso la spina dentro la schiena per indietreggiare dammelo dammelo che adesso ti scuraccio io e te ti metto nella cassetta dei pomodori insieme ai pomodori eh Anastasia mamma mia mamma mia ecco lo sai che tra un po' arriva il Natale? no che tra pochi brava ciao Anastasia Vanessa questo video finisce qui ciao ma dove va? ma vieni qua che facciamo in salute i nostri amici qualcuno la vuole adottare? io comunque ragazzi iscriveteci nei commenti mi siamo ancora adottati tutto vabbè è ubriaca anche Vanessa allora ragazzi il video finisce qua attivate la campanella attivate la campanella la vostra campanella e lasciate un bel like a questo video e lasciate un bel like a questo video a questo video e ci vediamo ciao in su ciao ciao mamma mia ciao ciao